Chi è la Bariso? La Bariso è un produttore di un tessuto plastico brevettato che era effettivamente il materiale giusto per la nostra idea. Ci serviva infatti un materiale che da una parte fosse flessibile e malleabile, nel senso si doveva adattare una struttura deformata, e dall'altra doveva essere traslucido e quindi permettere di proiettare delle immagini. Questa plastica speciale con una memoria di forma, quindi tra l'altro materiale altamente tecnologico, è stato esattamente quello che cercavamo e ci ha permesso di realizzare una struttura molto fluida e assolutamente irrealizzabile se non con un materiale come quello.